Buongiorno, benvenuta al prezioso hotel Small Luxury Boutique Resort & Spa. Il suo nome? Cagarella Anna. Eccola qua. Ok, lei ha prenotato una double comfort luxury room per due notti, giusto? Purtroppo non ha la vista mare, però ha una fantastica parking biolaterale dal quale vede il parcheggio riservato agli ospiti. No signora, non ho altre stanze available. Siamo full dallo scorso gennaio. Per scusarci del disguido, le offriamo un fantastico bicchiere di tavernes riserva di benvenuto. Enjoy! La sua camera non è ancora pronta. Sì, abbiamo avuto un super double late checkout. Nell'attesa però, per scusarci dell'inconveniente, proprio lì nel tavolo lì davanti, troverà una fantastica selezione di sandwich di due giorni fa, preziosamente selezionati da nostro maître chocolatier. La colazione viene servita dalle 4.45 alle 7.15 del mattino nel palazzo che trova in fondo la via. Se si sveglia più tardi, non c'è nessun problema, le lasceremo davanti alla porta una ciotola di latte con dei crostoni di pane come servizio complementari. Scusi un secondo. Buongiorno, sono Marina. Per quante notti? Sfortunatamente siamo a completo fino al 2029. Una stanza libera ci sarebbe, sì, ma è la suite royale imperiale deluxe extra large executive exotica a 3498 euro notte. Ma si figuri? Arrivederci.